Ciao a tutti! Come va? Come avete passato in Natale? Tutto bene? Spero di sì! Io l'ho passato bene, l'ho passato in famiglia come da tradizione, quindi non si sfugge da lì, ma vi faccio questo video perché devo darvi una comunicazione importante, un avviso importante. In pratica sotto l'albero, insieme ai regali di Natale, ho trovato anche una cosa molto importante, cioè questa, guardate, è una pubblicazione, è il notiziario annuale del comune di Tavuglia, che è appunto il mio paese, il mio paese natale, ed è anche il paese nel quale è ambientato il mio romanzo, la lista delle cose semplici, ambientato tra Tavuglia e Rimini. E quindi su questa pubblicazione vedete ovviamente il re, il protagonista è Vale, Valentino Rossi, perché è stato un anno, direi, significativo moltissimo per lui, questo 2021 sarà ancora più significativo il 2022 perché sapete che arriverà la sua bimba. E in questo notiziario, in questo giornalino sono racchiusi e raccolti i fatti salienti accaduti durante l'anno, in questo caso appunto il 2021. E ci sono anch'io, ci sono anch'io perché la presentazione del mio libro, la lista delle cose semplici, è stato il primo evento dell'estate di Tavuglia, giugno, 18 giugno 2021, primo evento dopo il lockdown. Quindi insomma è stato un evento importante e molto emozionante anche per questo. E ecco che mi è stato dedicato un articolo, un articolo appunto nel riassunto dei momenti salienti del 2021. Ve lo leggo perché ci tengo parecchio e sono molto fiera di questo articolo e di questa celebrazione da parte del mio paese e dei miei compaesani. Una serata sold out per la presentazione del libro di Lucia Renati, questo è il titolo. Tantissime persone quest'estate in Piazza Agnassi hanno assistito alla presentazione del libro La lista delle cose semplici, scritto da Lucia Renati, edito da Sperling e Kupfer. Ispirato alle vicende autobiografiche dell'autrice, il romanzo racconta la storia commovente di rinascita e speranza di una giovane donna dopo una terribile tragedia. Una serata bellissima da sold out, commenta l'assessore al turismo e cultura di Tavuglia, Patrizio Federici. Tanta gente e una grande scrittrice che ha messo a nudo le sue fragilità e le conseguenze della tragedia che ha colpito la sua famiglia. E poi c'è una foto, c'è una foto di quella sera, una foto che devo dire fa vedere quanto è stata grande la partecipazione quella serata, c'era tutta la piazza piena, c'erano anche persone in piedi, insomma io ho veramente un ricordo bellissimo e non saprei neanche come descrivere l'emozione che ho provato, veramente indescrivibile, un abbraccio collettivo meraviglioso che mi ha dato anche la forza di raccontare il mio romanzo e chi l'ha letto sa quanto possa essere stato difficile per me ma anche per la mia famiglia sentire venire fuori, sentire uscire quelle parole. Quindi io ringrazio veramente Patrizio Federici, citato nell'articolo l'assessore alla cultura del comune di Tavuglia senza il quale non sarebbe stato possibile organizzare quella serata, quell'evento e ringrazio tantissimo anche la sindaca di Tavuglia, Francesca Paolucci, che devo dire mi è stata molto molto vicina, l'ho sentita molto vicina in quella serata ma la sento vicina anche tante altre volte. Quindi grazie, grazie veramente di tutto, grazie al mio paese, io spero che il 2021 ci abbia insegnato tante cose. Per me è stato un anno speciale, un anno speciale perché appunto l'anno in cui è uscito il mio romanzo è un sogno che si è avverato per me e quindi io lo terrò sempre nel cuore come un anno speciale. So che è stato un anno difficile per molti e mi auguro che il 2021 riscatti un po' le cose brutte che sono successe questo anno. Vi auguro insomma veramente di migliorare tutto il migliorabile e niente, tanto noi ci risentiamo, poi insomma per la fine dell'anno e anche per l'inizio dell'anno nuovo, grazie per seguirmi così numerosi e niente, vi aspetto, vi aspetto qui sempre su questi canali, sui miei social, tra le mie pagine e vi auguro di avere sempre il tempo per le vostre cose semplici. Non è sempre facile, però è importante. Ciao, a presto!